Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, grazie, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato, perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta, benigno, le nostre preghiere, che invocano la Tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti. Possano riconoscerti sempre come sommo bene e da richiedere ai fratelli con amore sincero per Cristo nostro Signore. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque perché tutto copre al vostro bene in Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso seguo la preghiera di corigione. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedetto nei secoli, vi benedetto nei secoli, vi benedetto nei secoli. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedetto nei secoli. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedetto nei secoli. Dio, che è benedetto nei secoli. Dio, che è benedetto nei secoli. Alleluia. 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 Grazie a Cristo, grazie a Cristo. 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 Signore, accogli tutto quello che noi ti portiamo nei nostri cuori e ti doniamo in questi momenti, noi stessi, i nostri problemi. Ma anche tutti coloro che si sono raccomandati nelle nostre preghiere. Signore, tutti i nostri cari che hanno delle malattie e dei problemi. Signore, accogli tutti nella tua misericordia e donaci una vita nuova. Grazie a Cristo, grazie a Cristo. Grazie a Cristo, grazie a Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, tu vedi tutto e conosci tutto. Tu sai che i problemi della vita, tu sai che i problemi della vita spesso ci fermino. E spesso non vediamo il senso della vita. E spesso non vediamo il senso di quello che portiamo nella nostra vita. Spesso, in questi momenti, noi non vediamo il senso della vita. Signore, sei vicino a noi. Con la luce della tua risurrezione, disperti le tenebre che sono in noi in questi momenti. che allontana la tenebre da tutti coloro che lottano. con i problemi, tutti noi doniamo la speranza, la speranza che porta a tua risurrezione, la speranza, la gioia della vita. Signore, aprici per la tua misericordia, per te, per la vita in te. Perché solo in te noi abbiamo la vita. Signore, allontana da noi tutti i sentimenti negativi e donaci la libertà dello spirito, affinché nella malattia possiamo lodarti e a cuore puro cantare a te. Signore, Gesù. Signore, Gesù. Signore, Gesù. Signore, Gesù. Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Alleluia 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 Gospodine Signora Pozvao ti nas I mi smo ti došli Očekaj matina i samu venuta Sappiamo che solo tu puši guarirci Che solo tu puši dare Quello che abbiamo bisogno nella nostra vita Che solo tu sai Cosa davvero ne abbiamo bisogno Noi ci abbandoniamo a te con tutto il nostro essere E ti preghiamo Nel tuo amore guarisci tutti noi Noi E tutti coloro che si sono raccomandati nelle nostre preghiere Pozdravi nas Bariscici Così che possiamo servirti ancora di pių E ti potrai crescere ancora di pių nel tuo amore Pozdravi nas Gospodine Bariscici signora Gospodine 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 Chiria Chiria Lejson Voi Le vostre famiglie Tutti coloro per chi stasera avete pregato Benedica Dio Onipotente Padre Figlio E Spirito Santo